Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Ancora non è cominciata la season 2, quella con alibi maestro ambientata in Italia, che già si hanno dei possibili leak sulla stagione 3. Vi ricorderete infatti dell'utente Artex 3 che qualche settimana fa, se non addirittura un mese, aveva previsto quasi tutte le introduzioni che ci sarebbero state con questa season italiana e che sono state poi confermate durante la Pro League. Scavando all'interno dei file dei TTS aveva scoperto ad esempio i gadget e le armi dei due nuovi operatori italiani. Proprio per questo motivo credo di potermi fidare completamente di questo utente e quindi andrò a mostrarvi ciò che è riuscito a scovare all'interno dell'ultimo aggiornamento dei TTS. Ma passiamo all'analisi di questo post, per prima cosa si parla di microtransazioni, ovvero acquisti in game che abbiamo già visto con Operation Outbreak. Il fatto che la schermata e il pulsante per switchare tra alfa pack e pacchetti Outbreak sia rimasto in gioco, a me già aveva fatto pensare abbastanza. Proprio inerente a ciò l'utente ha scovato all'interno dei file di gioco alcune righe di codice che fanno riferimento a Summer 2018, quindi estate 2018, Twitch 2018 e non penso si riferisca all'operatrice francese, bensì alla piattaforma di streaming più famosa al mondo. E inoltre c'è anche un senza nome 2018. Questo potrebbe essere semplicemente lo spazio per ad esempio pacchetti inverno 2018. Anche in questo caso si parla di una collezione completa di set A, B e C e addirittura della conversione dei pacchetti. Probabilmente questa volta potranno essere rivenduti, cambiati e così via. Ciò probabilmente ci prepara ad affrontare una nuova ondata di pacchetti, come suggerisce Artex 3, vedremo sostituiti i Twitch Drops, quindi i ciondoli che era possibile ottenere guardando le finali della Pro League su Twitch, con una sorta di loot box, quindi si riceveranno probabilmente dei pacchetti da scartare e non saranno identici per tutti. Passando alle cose più importanti, leggiamo finalmente qualcosina su quello che dovrebbe essere il prossimo operatore in grado di distruggere le pareti rinforzate. Al momento infatti abbiamo solamente Thermite e Ibana in grado di farlo, ma la Ubisoft ha chiarito che era assolutamente intenzionata di inserire un ulteriore operatore in grado di utilizzare un gadget simile a quello dei due Breacher. Questa volta però si parla di Blow Torch, in italiano starebbe per fiamma ossidrica, ed effettivamente quando la Ubisoft aveva fatto questa dichiarazione stavo ragionando su quelle che sarebbero potute essere le possibilità per permettere a un ulteriore operatore di distruggere delle pareti rinforzate con metallo. E la cosa più semplice era assolutamente una fiamma ossidrica. Certo è che un gadget del genere richiederebbe un lavoro non indifferente. Immaginate di poterlo usare come ad esempio una qualsiasi arma e quindi lasciando il vostro logo in giro sulle pareti di tutti gli edifici. Mi sembra un po' assurdo, quindi magari si potrà utilizzarlo solamente in determinate situazioni e creando determinate forme. Il tutto però dovrebbe avvenire tenendo l'operatore vicino alla parete. Per quanto riguarda la lista dei gadget che era presente nello scorso leak, questa è stata ripulita totalmente da Ubisoft, con l'intenzione sicuramente di ridurre la quantità di leak. Fatto sta che Artex 3 è comunque riuscito a scovare alcune linee di codice che si riferiscono all'allarme audio di cui già avevamo parlato in passato e dovrebbe essere una sorta di sensore di prossimità con degli effetti che ricordano tantissimo le mine Gerzmot di Ela. Si parla ad esempio di allarme audio di prossimità, di allarme audio distrutto, innescato, di nemico affetto colpito dall'allarme audio. Tutti questi file sono stati scovati sia all'interno dei file del TTS attuale che quelli di Operation Chimera. Tra l'altro sono stati leggermente modificati, ciò vuol dire che la Ubisoft stia effettivamente lavorando su queste linee di codice. Procedendo invece incontriamo Hall Blocker. Dovrebbe essere un altro gadget in grado di bloccare i buchi e ciò effettivamente andrebbe di pari passo con quello che dovrebbe essere il nuovo Breacher Operator, ovvero una nuova funzione per permettere magari di riparare le aperture fatte dai Breacher, quindi da Thermai, Tibana e questo nuovo operatore. Fatto sta che le linee di codice di questo gadget sono davvero pochissime e in realtà creano anche abbastanza confusione. Leggiamo infatti alcune strisce che si riferiscono a proiettili e altre invece che si riferiscono al tipo, singolo, doppio, trappola. Mi piacerebbe tantissimo confrontarmi con voi su questo gadget magari qui sotto nei commenti. Vorrei leggere quali sono le vostre opinioni al riguardo e se effettivamente sareste favorevoli o contrari a questa introduzione. Nell'ultima parte di questo post infine Artex3 scrive di non aver trovato alcun riferimento alle armi ma che nel leak precedente erano presenti la POF9, il CAR15 e la AA12. Non siamo certi che questi possano essere stati i nomi in codice delle armi rilasciate per gli operatori italiani o se invece si riferiscono direttamente alle armi che vedremo in dotazione ai prossimi operatori della Season 3, 4 e così via. Nel ringraziare nuovamente l'utente Artex3 per questi interessantissimi leak, vi ricordo ovviamente di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale attivando la campanella in modo da non perdervi le novità dal mondo di Rainbow Six. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao!